Auto contromano per le vie del centro storico oppure parcheggiata a ridosso dei monumenti come la scalinata di San Bernardino e il Parco del Castello. Una sorta di deregulation e anche uno scarso senso civico dei cittadini trasforma il centro storico in un grande parcheggio selvaggio. Il Comune dice basta a un atteggiamento che non premia l'immagine della città pronto a partire con un'azione repressiva più intensa che spiega l'assessora alla mobilità con delega della Polizia Municipale e Carla Mannetti sinora si è voluto evitare. Intanto si procede nell'acquisizione del parcheggio di Colle Maggio che potrebbe offrire ampi spazi per alleggerire finalmente le vie del centro storico. C'è questa abitudine che purtroppo hanno assunto gli Aquilani di parcheggiare in maniera selvaggia, doppia fila, tripla fila e questa cosa non va bene perché si dà un'immagine della città che non è quella giusta. Comprendo che c'è sicuramente una carenza di parcheggi però ci dobbiamo anche rassegnare a parcheggiare lontano dal luogo da raggiungere parlo di 500-600 metri, non distanze lunghe ed eccessive. Questo è un comportamento che noi dobbiamo accettare e assumere per il bene della nostra città. Il Comune come può incidere per disincentivare questo atteggiamento? Il Comune sicuramente può incidere con una stretta e un'azione forte di repressione da parte della Polizia Locale, cosa che noi fino ad oggi abbiamo voluto evitare. Vengono fatte le contravvenzioni però si cerca anche di lanciare un messaggio ai cittadini per educarli, questo però non avviene e quindi ci costringerà ad essere più severi e più duri. Novità sul fronte parcheggi invece? Novità sul fronte parcheggi, stiamo aspettando la risposta da parte dei gestori del megaparcheggio, tra poco scadono i 30 giorni e per noi riprendere quella struttura potrebbe essere un primo passo importante.